Allora, come sei affacciata a guerriera spartana? Come stavi vivendo in quel periodo? Cosa è cambiato? Ecco, raccontaci un po' la tua storia. Io sono entrata in questa famiglia un anno e due mesi fa e l'ho fatto perché ero sul divano con Pringles, cioccolata, pane e qualche altra schifetta e stavo smanettando con Facebook e sono arrivati quei due occhiettini neri lì che hanno iniziato a raccontare della sua storia, che era sovrappeso, è arrivata a fare i miei sbicchini e ho detto, eh, è arrivata, vediamo un po'. Eh, è arrivata. Esattamente dal giorno dopo ho iniziato con i suggerimenti del dottor Balducci. Io in cinque mesi ho perso 11 chili, ma al di là del peso, che diciamo sempre di buttare la bilancia, che non è quello. Io non ho, cioè, dalla 44 tirata sono una 40 adesso. Ma che meraviglia! Io mi sono sposata tre settimane fa e ho messo un abito da sposa. Congratulazioni! Grazie, grazie. L'ho visto. La cazzata ho fatto finito. Eri bellissima, eri bellissima. E io ho messo l'abito da sposa che volevo. Avevo la schiena il 26 di febbraio. A schiena. Completamente nuda. E hanno voluto farmi la foto alla schiena. Io viola in faccia perché ho detto, no, sono nuda. E invece ho visto le foto e avevo tutti quei muscoletti che si vedevano bene. Per chi ci ascolta è un po' titubante, insomma, di testimonianze ce n'è. Potete vederne quanto ne vuole, con quella lentina che dovete usare, con la lentina che dovete usare. Grazie a tutti.